Nuova specializzazione per l'Istituto Buzzi e separazione fra il Liceo Livi e il Brunelleschi. Il prossimo anno scolastico potrebbe iniziare con due importanti novità. L'Istituto di Viale della Repubblica ha fatto richiesta di attivare la specializzazione in logistica. Da più parti, spiega il dirigente scolastico Alessandro Marinelli, ho avuto richiesto di istituire un nuovo percorso formativo. La domanda da parte dell'impresa è molto forte, l'organico è coperto e avremo trovato anche una soluzione per gli spazi. Tramite un accordo con l'Interporto che metterebbe a disposizione 250 metri quadrati. Ora la provincia deve valutare la fattibilità del progetto, fare richiesta alla regione e poi trovare l'accordo per l'affitto. Per ora non è previsto un aumento delle classi terze, sarà solo una diversa ripartizione degli studenti. Saranno anche attivati i corsi post-diploma di riqualificazione dell'occupazione. Novità anche in casa Livi e Brunelleschi. La scissione porterebbe al Liceo di Montemurlo un nuovo dirigente scolastico, un organico indipendente di tecnici e amministrativi che a oggi sono condivisi con Via Marini. La richiesta sarà inoltrata al Miur e poi inizierà l'Iter. È un giusto riconoscimento per il lavoro fatto fino ad ora, ha commentato la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti. Un percorso che ha sostenuto con convinzione. È come quando un figlio diventa grande e bisogna lasciarlo andare per la sua strada. Grazie.